E io non voglio andare di qua però, però dobbiamo, dobbiamo perché sennò non si va avanti. Allora, ok, eccoci, 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 con calma qui che dobbiamo stare attenti al veleno. Non ti avvelenare, eh, possibilmente non ti avvelenare. Vesti nere, ok, qualcosina, eh, buonanotte, pazienza, pazienza. Flamberga, ok, devo andare molto peggio, la possiamo usare. E ora ci sono loro però. Ah, speravo in più, dato che sono fortissimi i pugnali. Ale. Eh, però siamo avvelenati. Meno male che abbiamo le gemme, ne abbiamo prese tante, tante, tante. Uh, un altro che striscia, aspetta un secondo, anima morente. Frammento grande. Cuneo della forgia, ai ai ai, questi ci servono in teoria per il DLC, che non penso riusciremo mai a fare però. Scudo del santuario, oh, speriamo sia un po' più leggero, almeno un po' più leggero. Oh, non gli facciamo niente agli scheletri però. Beh, sicuramente è più leggero, però non possiamo neanche usarlo, allora non facciamo veramente nulla. Uh. Wow, un elmo. Oh, che bello. Guarda, una piuma di tre metri in testa. Eh, l'anima del putrido, via. E anche ossa del ritorno che vengono bene. No. Fermo lì. Oh, bello, finalmente. Un frammento di... Ah, meglio una mano. E allora, ok. Ok. Ah, ottimo, ottimo, ottimo. E intanto qua il veleno però... Muoio di veleno, sono un cretino che stavo nel menu. Sono scemo. Guarda, sono uno scheletro. Con calma, con sangue fred... Prendi... Sangue freddo. No, Dio santo, per un pelo. Qui? Lama doppia dello stregone, niente. Siamo tornati inutili. Qui sotto? Non mi ricordo. Oh, meno male. Che culo. Che botta di culo indescrivibile. Aspetta. C'era Gavlan... No, Gavlan era da un'altra parte. Aspetta. Qui c'era lo scrigno. Aia, no. Ehi. Che culo. Trovare la spada lunga, guarda. Veramente. È andata benissimo. Allora, aia. Iniziano già a bombardare. No, ferma. Ferma lì. Non fare. Ok. Anche droppato, forse. Non ho visto. Tu stai lì che guarda. Sì, ha droppato. Voglio solo prendere il drop. Ah, bene, bene, bene. Madonna santa. Vai. Aiuto. Ale. Drop. Niente. Andiamo, andiamo. Eeeh, cinquemila. Lucertole che non prenderemo mai. Mh, ferma lì, ferma lì. Eeeh, guarda. Sto pezzo con le... No, niente. Sto pezzo con le lucertole è terribile. Terribile. Ora, dovremmo infilarci qui in mezzo. Ma se non sbaglio, avere la torcia ti fa vedere molto meglio dal... In mezzo al veleno, diciamo. Anima di un gigante, ok. Antico elmo da cavaliere, me lo metto subito, dammi solo un secondo. Elmo del soldato vuoto, niente. Mi metto questo e mazza. Che va bene, eh. Non mi lamento. Elmo del soldato vuoto. Ah, siamo tornati con l'elmo di prima. Oh. Non è niente male. Eh, vedi che la torcia aiutava. Guanti di Lucatiel, aiuto. Un muro, grazie. La scala. L'ho trovata, l'ho trovata a posto. Aia. Mamma mia. Tutte le gemme buttate veramente nel cesso. Aspetta. Di qua bisognava far sfondare tutto a un... No, non era di qua, forse. Ah, sì che era qua. Vai. Bravissimo. Fammi passare. Vieni qui. Avvicinati. No, 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 no. Avvicinati. Non fare. Bravissimo, l'ha rotto, l'ha rotto. Vediamo la mazza. Ebbè. Oh. Il danno c'è. Guardate che non è niente male, eh. R2. Ale. Un altro? Ma non possiamo metterli insieme, vero? Uh, arco potente a due teste. Abbiamo un arco. Abbiamo un arco. Maschera del manichino. Uh, è quella brutta, 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 brutta. Mamma mia. Oh, bene, 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 bene. L'anima del re di ferro. Perfetto. Scendiamo. Uscendo da qui. Dove si va? Ah, ma non finiva lì la strada, allora. Con la torcia l'abbiamo scoperto, almeno. Di qua. Oh, questo pezzo. Questo pezzo. È veramente l'inferno in terra. Anche se abbiamo un'arma che va... Ai, 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 ai. Niente. Riproviamo con loro, però. Ok? Eh, vai a cagare, però. Vieni qui. Dai. Perché non è partito l'attacco in corsa? Niente. Via di qui. Anime. Ora cerchiamo di combattere come si faceva un tempo. Ovvero scappando e dando un colpo alla volta. Abbiamo i coltelli, però, eh. Non dimentichiamo mai i coltelli. Guarda. Dai, facciamo molto più danno. Preso. Ehi, piano, piano. Via. Ok. Blocca li tutti, bravissimo. Blocca li tutti. No. Mamma mia. Ma perché l'hanno fatto così qui, ma... Oh, e uno è andato. Un altro. Poi. Uno. Due. E ora vieni tu. E si spera che non moriremo. Dai. Contro uno. Aia. Uno e due. E anche tre. Oh, bene, 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 bene. Uh. Gambali di Avel. E anche il sigillo del sole. Va bene. Qui. Si torna indietro. Ehi. Ah, è vero. Forlorn era anche qua. Vieni, 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 vieni. No, lui no, però. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Hai capito tutto. E Ale. No, dai. Sto aggro. Sto aggro infinito. Di Dark Souls 2. Ok. Aia. Ci sono proprio andato dentro, eh. Ah, ma ti stordisco, eh. Allora, guarda. Accetto di beccarmi una spadata da lui. Wey. Preso. E' andato. Oh, bene, bene, bene. Io vorrei andare qui. Io vorrei veramente andare qui. Vai. Oh, bene, bene, bene. Perfetto. Ora tocca l'altro. Ed è morto. Perfetto. Qui, anello del sanguinamento. Più uno. Ok. No, dai. È troppo in basso, non riesco a prenderlo. Ok. Uh, gambali. Oh, peccato. Abbiamo trovato quelli di Avel. Uh. Falce di Naralma. E' anima morente. Ai, ai, ai. No, non possiamo usarla per poco, in realtà. Quindi possiamo fixare il problema, in teoria. Però che palle, dai. È bella, però. Cioè, oddio. Bella. Insomma. Abbiamo trovato tantissime armi oggi. Tantissime. Si sta bloccando tutto. Eh, ma non gli facciamo veramente niente, eh. Ai, ai, ai. No. No, 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 no. Qui dobbiamo un attimo inventarci una strategia. Guarda lì, mamma mia. E le bombe anche. Tiè. Vabbè, ha funzionato. Più o meno. Lui si è avvelenato da solo. Dove si va più di qua? Ah, sì, 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 sì. Aia, maledette. E tiè. Ok. Molto bello. Un'arma. Un'arma che posso usare. Ti prego. Va bene. Vieni, vieni. Aia, maledetti. No. Ok. Che qui, guarda. Ora qui, con calma. Perché qui abbiamo la strega che ci stava bersagliando. che cercherei di uccidere senza farmi ammazzare subito. Vai che magari cade. Bravissima, è caduta. Però non è caduta abbastanza. Ora sì. Qui. Oh no, cos'è? Cos'è che fa versi? No, come faccio? Ah, e allora. Guarda. Tu sei un mimic? Ho fatto una cagata. Però tu sei un mimic, sì o no? No. Ok. Ok. Eh, ma qui è un casino. È appunto. Guarda. Vediamo se riusciamo a acchiappare qualcosa proprio al volo. Magari a colpirlo. Uh, bene, 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 bene. Vai? No. Però, ok. Osso del ritorno e passa la paura. Mamma mia. Allora, abbiamo anime. Anime, anime, anime. Quindi usiamole. Abbiamo anche un frammento di Estus, eh? Innanzitutto potenziamo la fiaschetta. Poi a 12 riusciamo a portarne una. Che comunque viene bene, eh? Per carità. Tanto vengono bene nel caso non avessimo armi. Intanto ci compriamo una cinquantina di gemme e diciamo 70 bombe. Eh, sono cretino. Beccati qui. No, me le sono beccate io. Eh, niente. Dai, però. Io direi di andare dal boss a sto punto. Tanto voglio dire. Avremo problemi con lui? Ale. Ale. Avete presente Ocarina of Time? Che quando combatti il Dodongo devi lanciargli le bombe in bocca? Ecco, uguale. Solo che lui neanche in bocca. Lui gliele lancia a caso e esplode. Ale. È stato emozionante. Grazie. Guarda. Ok, qui non c'erano oggetti, no? Vai. Vai. Perfetto. Ah, tu. Che palle. Ti è. Forse con le bombe, però, è anche meglio di combatterlo normalmente. Ok. State un po' fermi. Guarda. Lanciano le frecce predictando. Guarda. Ah, no, 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 no. Mi sono appena ricordato. Mi è venuto un flash di cosa c'è che guarda. È sbucato tipo il pazzetto. Ah, di nuovo? E qui, se non sbaglio, è lì. Sì. Ok. Dio santo. Però qua c'è il falò. Quindi, che fatica che sto facendo qui. Ovviamente, manco a starlo a dire, bruciamo tutto qui. Quindi, facciamo un casino incredibile. Questo ci risolverà un po' di problemi. Ho il terrore. Aha. Quanto gli faccio? No, niente. Non gli faccio niente, guarda. Questo no. Qui non c'era un muro invisibile. No, forse non era qui. Aia. Salve. No, la prego. La prego, signora. Qui c'è il mimic, se non sbaglio. Aspetta, c'è un oggetto là. No, non è vero. Sì, è vero. Ma vai cagare. Qui. Mannaggia te, guarda. Dov'era? Ah, eccone uno e c'è anche l'altro. Qui dovrebbe esserci un falò. Che spero di poter... Com'è morto lui? Si è velenato? Guarda, non lo so e non mi lamento. Oh, grazie. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Dov'è? Chi se ne frega, guarda. Chi se ne frega. Dammi il fettrol. Fai quello che vuoi. Ma intanto... Ora si mena. Eh, ho colpito il mimic. Si è velenato? Oh, grande. Bene, bene, bene. Fai tutto tu, allora. Mimic. Oh, yes. Spero. Però a due mani si può usare. E allora? Proviamola subito. Eh, mica male. Mica male. Ti prego non mi droppare un'arma perché non posso mentalmente sopportarlo. Oh, bene. Dark Souls 2. Cosa ho fatto io di male? Per carità, per carità. Meglio di armi che non posso usare. Perché comunque almeno il backstab fa veramente male. Però... Beh, dai. Gambali dei variaghi pure. Qui non c'era... Eh, infatti. Allora non ricordavo male. Con la bastarda che ci ha causato prima. No, dai. Mi sembrava di aver fatto bene. Ma vai a cagare. Ma quanto danno? Sto ventaglio. Ma che è? Ma... Spadone nero pesante da cavaliere. A due mani? No, dai. Ti prego, quanto serve? Ah, 13 a fede. Ma a saperlo aumentavo la fede. Ma vai a cagare. Scudo del soldato vuoto. Giusto per divertirsi un po'. Aiuto. Santo Dio, quanta stamina che mi fa usare. Eh, ciao. Ti scongiuro. Niente. Scendi qua, scendi qua. Va benissimo, va benissimo. Guarda. Basta che ci leviamo. Avvelenati pure. Tutto quello che vuoi, guarda. Piano. Ehi, piano ho detto. Piano vuol dire... Piano, non vuol dire forte. Ehi, sì. I ninja della foglia. Aiuto. Eh, niente. Mamma mia, sto posto. Ma vai a cagare, guarda. Vai veramente a cagare te e le piromanzie. Proviamo il boss. Entra veloce. Mamma mia, per un pelo proprio. No, ho sbagliato. Aia, mi fa. Abbiamo poche estus, poche gemme, poco tutto. Quindi, togliti da lì. Togliti da lì che... Già ci vogliono duemila colpi. Eh no. Dio santo. Continua a curarsi. Ne facciamo troppo poco. Oh, Pate. Salve. Una mano mi servirebbe, Pate. Ah, è vero. Qua c'è roba. Aia, dai. Che palle sti qui. Che palle sti qui, veramente. Ma vai a cagare, guarda. Sto registrandola talmente tanto che mi sta anche andando via la voce. Ok. Qui è giusto, no? Sì. Apri, apri, apri. Perfetto. Allora. Oh, grazie. Livelli. Livelli, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Anello di quarzo della fiamma. Me lo metto subito. Dammi solo un attimo. No, Cristo santo. Non pensavo. Non pensavo di cadere. Pensavo di girargli intorno. Vediamo quanto dà. Riusciremo ad arrivare a dodici? Non credo. Vediamo a quanto riusciamo ad arrivare. Oh, va bene. Eccoti. Aiuto. Elmo di Pate e guanti di lieve. No. Voi... Eh, lo sapevo. Dio santo. No. No, 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 no. Dai. Su. E che è? Eh, ora muoio di nuovo. Guarda. Questo gioco maledetto. Guarda, guarda, guarda. Dio. Facciamo che vado a Maggiula. E vediamo un attimo di fare una cosina. E ne ho solo queste, Gilligan. Il problema è che sicuro non basterà mai. Sicuro. Guarda come muoio. E invece no. E allora c'è una speranza. Oddio. Ok. Oh, è qua che io volevo venire. È proprio qui. Dai. Oddio. Sì. Oh. E che palle. Fa cagare, mediamente, però. Almeno. A sto punto, guarda. Torno al picco terrestre. E adesso, in teoria, dovrebbe essere fattibile. Dai. Almeno. Sì. Di danno in realtà non è così diverso. Ma è un'arma veloce. E quindi. No, 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 no. Eh, lo sapevo. Guarda. Sei proprio simpatica. Non morire. Non ti azzardare a morire. Ah, l'ha lanciata. Perfetto. Ora si tuffa a prenderla. E io la meno. Dai che siamo a più di metà vita. Dai ferma con quell'affare. Uno. Due. Vieni. E tre. Dio incoronato santissimo. No, voi. Ma che palle, dai. Si è ringraziato tutto ciò che esiste. Andiamo. Andiamo su. Via da sto posto. Guarda, arrabbiatissimo anche lui. Tutto di grigna tutto. Ed eccoci. Finalmente. Oh, guarda. Subito un cavaliere. Subito, immediatamente, proprio un cavaliere. Aiuto di Alon. Non è il massimo l'arma, ma almeno. Almeno riusciamo a fare danno. Oh, è qui sì che ci si diverte. Eh, sì. Un'altra metà. Un'altra metà. Un'altra metà. Grazie.